È stato il campus agroalimentare ai Rainieri Marcora il primo istituto scolastico visitato dal vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignore Adriano Cevolotto, da quando è arrivato da Treviso, sette mesi fa, per guidare la nostra diocesi. Un incontro con la preside Teresa Andena, il personale scolastico e alcuni rappresentanti degli studenti, incentrato anche sull'offerta formativa che le scuole agrarie e alberghiera propongono. Temi quali l'ospitalità, il banchetto, la condivisione e la cura dell'ambiente, che hanno dato modo a Monsignore Cevolotto di fare alcune riflessioni, spinto anche dalle domande degli studenti. Lo dicevo anche ai ragazzi, oggi rispetto ad alcuni temi che da un punto di vista umano sono centrali, appunto il tema della ospitalità, il tema del banchetto, del dar da mangiare, del mettere a tavola e quindi del favorire l'incontro. E poi il tema, diciamo, lo si dice ecologico, per noi cristiani è della creazione del creato, cioè di uno sviluppo, di una possibilità di garantire il necessario per tutti, ma non solo oggi, ma anche domani, dopo domani, le nuove generazioni. Quindi che qui si formino le nuove generazioni su questi temi credo sia una realtà molto da apprezzare e anche da valorizzare. A lei è qui da ottobre, è un piccolo bilancio. Sono felice di essere qui, è una realtà come immaginavo, un po' diversa, più che la città, ecco il territorio, però lo sto anche, sto cercando di visitarlo, ecco di conoscerlo, perché credo che la cosa più importante è di accostare le realtà e si scoprono tante cose belle, tante risorse, insieme anche a tante fragilità.